Come abbiamo provato ad analizzare durante la sessione l'opportunità di lavoro legate a quello che è il mondo biomedicale, dispositivi medici in generale e anche al nuovo settore possibile della nascita delle start-up. Il 33% delle start-up, 280 start-up presenti attualmente sul mercato, secondo la sua biomedica, sono nate negli ultimi due anni, quindi è sicuramente un settore in forte crescita. Che questo possa tradursi immediatamente in una crescita occupazionale, ancora non è detto, però è sicuramente il nostro spirito quello di provarci, di mettere in condizione quanto più possibile le persone, i ragazzi dell'associazione a provarci.